Come ti chiami? Silvia Gennaro. Allora, con Silvia, da quanto sei a Barcellona? Cinque anni. Cinque anni? L'otto febbraio. Cinque anni a Barcellona? Ok. E come mai hai deciso di trasferirti a Barcellona? Qual è stato, diciamo, in light mode? Allora, io mi ero laureata da poco e stavo, e stavo cercando qualcosa da fare, qualcosa con cui impiegare il mio tempo post laurea e niente, ho visto questo bando del Leonardo Program, che per chi non lo sapesse è un progetto, vabbè adesso è Erasmus+, però praticamente è un progetto dell'Unione Europea che ti va a fare tipo l'Erasmus. Ok. Però per la pratica di lavoro, cioè tu già stai facendo tipo uno stage. Ok. Ah, ok. E c'è anche un limite di età o...? No, in questo in particolare era abbastanza aperto per diplomati o laureati, in questo caso era residente in Sicilia. Ah, ok. E l'hai trovato sul tipo il sito del comune? No, me l'ha inviata una mia collega, padovana, che rosicava tantissimo perché non poteva farlo, però ha detto, ha pensato a me, ha detto vabbè dai... Quindi se non avete colleghe padovane non potrete fare sto bando. Bene. E quindi niente, fatto click, sempre fare click ai link che vi inviano. Oddio, quasi. Oddio, quasi. Ci sono dei link che è meglio noi. Quattro che ci sono anche link che no, meglio non cliccare. Esatto, esatto. Ehm... E questo e poi io ho vinto il bando. Ok. L'ho fatto una selezione, eravamo circa mille e niente. Ehm... Sono arrivata a Barcellona, stavo già vivendo a Roma e mi sono spedita già tutto per... Era febbraio, mi sono spedita tutto per l'estate. Quasi quasi, già che ci siamo. Resto a Barcellona che non è niente male, come possiamo vedere. Cioè ragazzi... Siamo a febbraio. Esatto. Oggi ne abbiamo... 2... No. 2 febbraio. Oggi è il 2 febbraio e gente in costume che sta giocando a pallavolo in spiaggia a Barcellona. 0202 2020. È vero. 0202 2020. Cazzo oggi è una data... Sì. Beh, così. Brava. C'entranno i Maia sicuramente. C'entrano sempre i Maia. In Maia c'entrano sempre. Ormai... Dovevano... Nel 2000 era l'ultimo giorno, cioè secondo loro il calendario. Sì. Sì. Siamo ancora qua. Siamo ancora qua. E quindi tu sei venuta qua a Barcellona per questo bando. Esatto. Ho fatto 4 mesi di stage. Insegnavo spagnolo in un centro per i migrati. È un'esperienza bellissima, super formativa. Avevo una stella mattina, tutte le donne, con velo, senza velo, che provenivano da tutto il mondo. Una cosa eccezionale. Nel pomeriggio invece classifica. No. 4 mesi molto intensi. E poi ho smesso di... Ho finito Leonardo. Sono rimasta. Ho cercato lavoro. Ho cercato casa. E devo dire che ho avuto... No. Perché in un mese ho trovato sia l'uno che l'altro. E sono ancora qua. Ecco. Che è un problema enorme quello di trovare casa, eccetera. Esatto. Vabbè. Adesso sicuramente le cose sono un po' cambiate da qui. In peggio. In peggio. Sono cambiate in peggio. Io ricordo... È un incoraggiamento questo. Assolutamente. No. Ci vuole... Bisogna... Bisogna... Tu trovi un peggioramento. Ecco, brava. Tu che vivi da 4 anni qui a Barcellona. Esatto. Da quando sei arrivata a oggi, secondo te, vedi che avete in peggio. Quali sono le difficoltà che oggi può incontrare una persona che ti chiede di trasferirsi a Barcellona? Allora, i prezzi delle case e delle stanze sono più che raddoppiati. Quindi questo è un problema... Più che raddoppiati? Più che raddoppiati. Nella mia stanza, che non è niente di che condivisa del Leonardo, e la mia becca, il mio scholarship, la mia borsa, ecco. Ho trovato il terzo idioma, la terza lingua, l'ho trovata. Questo succede anche agli italiani a Barcellona e dimentichi l'italiano. Comunque è un italiano un po' strano. Ti guardano... Gli italiani ti guardano un po'... Che stavo dicendo? Che stavo dicendo? Ecco. E quindi stavo dicendo che pagavano 250 euro al mese per una stanza. 250 euro per una stanza. E quindi adesso invece siamo intorno alle 400, 500. C'è anche chi per una singola paga 600. Ovviamente la casa che stavo io non era granché, però era a 300 metri alla Sagrada Famiglia. Quindi non era neanche una zona terribile. No, cioè oggi è una zona inavvicinabile. E quindi diciamo questo è quanto. Quando già cercavo io ho trovato, mi sembra che stiamo parlando del 2015, estate 2015 io pagavo 400 credo, tutto incluso, quindi anche le spese che non era male. Ma quando poi ho cercato un annetto dopo, già si era perso il controllo. Esatto. Io ho visto una stanza proprio a 300 metri dalla Sagrada Famiglia a 550 euro. Era un buco, 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 buco. Sì. Era un buco. Sì, c'è sì. Infatti poi ho cambiato proprio zona. Sì. Mi sono spostato nella zona di San Martì. Ok. Tra Gran Via e la Rambla di Chipusqua che, diciamo, chi ha avuto a che fare già con Barcellona e cose amministrative è dove c'è la commissaria. Sì. Dal punto di vista lavorativo avevi già trovato, però quali sono i documenti che occorrono per poter lavorare ad esempio a Barcellona? Cioè se uno non riesce a venire attraverso il, come si chiama? Il Renato Programme. Esatto. Oddio, è quello mio? Esatto. Devo recuperarlo. Il bello del tavolo. Esatto. Il bello della diretta. Qual è la difficoltà più grossa, diciamo, i documenti che servono per trovare lavoro qua oggi sono il NIE? Chiedono il NIE, sì. Ok. Vabbè, diciamo principalmente quello, nel senso che per avere il NIE o fai parte di un progetto che ha una durata abbastanza lunga oppure hai una proposta di contratto. Ok. Quindi c'è qualcuno che veramente vuole che lavori lì e quindi aspetta un attimo i tempi tecnici perché può passare un po' di tempo prima di avere il NIE. Più che altro perché ottenere un appuntamento è un incubo. ci sono degli orari in cui tu stanno aprendo nuovi slot la mattina prestissimo e ti trovai lì con il tipo il ditino a fare ok 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 fino a quando finalmente non ti danno quel quarto d'ora. Esatto. sì. È vero, è un casino. E vai lì, ti presenti lì tipo alle sette, con tutto l'appuntamento ti presenti lì tipo alle sette del mattino e inizi a fare la fila, cioè è una cosa... sì 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 è un casino. E invece dal punto di vista del lavoro no? Sì. Dov'è che secondo te c'è tanto lavoro a Barcellona? in che ambito? In che... Allora, l'ambito in cui per adesso c'è più lavoro sicuramente è quello dell'assistenza ai clienti ed è sicuramente... Ah, ecco questo è interessante, assistenza ai clienti, bravo. Perché a Barcellona si fa impresa, cioè ci sono aziende e quindi ormai un settore che è sempre più importante a livello di qualsiasi prodotto che tu possa vendere, il settore è l'assistenza del cliente. Ok. Ci sono dei clienti sempre più esigenti, dei consumatori sempre più attenti ed esigenti e quindi le aziende devono assicurare una certa copertura oraria e anche linguistica. Perché se sei un'azienda anche... non per forza un'azienda grande, ci sono anche aziende piccole però che ti vuoi aprire a altri mercati è imprescindibile avere l'assistenza clienti nella stessa lingua. Ok, quindi l'assistenza clienti è uno di quei lavori che è facile trovare oggi? Sì, soprattutto è più facile da trovare. Dipende, in generale c'è offerta per un po' di tutto. Ovviamente ci vogliono delle competenze, quindi dipende un po' dal tuo settore. se tu per esempio non hai avuto ancora molte esperienze lavorative o sei indeciso o vuoi cambiare vita domani e non sai parlare lo spagnolo, ok? Puoi... cioè c'è un modo per iniziare a farlo senza dover aspettare di parlare la lingua lavorando nell'assistenza clienti nel mercato di riferimento che è quello della tua lingua quindi in questo caso l'italiano per gli italiani. E invece dal punto di vista di... vuole farti una domanda importante, caspita, mentre parlavi. Cioè se nell'ambito turistico ad esempio, vabbè ovvio c'è tanto lavoro. Ah, ecco la domanda. Se uno invece tipo non è più giovincello, no? Ok, il ventenne viene qua e è molto avvantaggiato diciamo, no? Però se uno invece ha 40 anni e passa e vuole venire a lavorare a Barcellona, secondo te ci sono dei problemi di limiti d'età o no? Assolutamente no, assolutamente no. Quando ho lavorato da Amazon ho avuto dei colleghi... Assunti? Assunti, che avevano già toccato i 40 anche di più. Ok, quindi se avete diciamo un po' il problema, oddio ma dove vado a 40 anni, sappiate che a Barcellona a 40 anni non sei considerato vecchio. Anzi, anzi, l'importante è che tu, cioè a parità di... cioè se tu hai le competenze che chiedono non c'è molto per cui non lo devono assumere. Ovviamente, cioè, dipende anche un po' da come tu ti vendi, no? Perché poi, cioè, nella vita è sempre un po' così. Bisogna creare un minimo in se stessi e vendersi bene. Sai che questa fa parte un po' del gioco. Bravissima. Abbiamo un po' di tutto. Brava. È giocarti le tue carte in quel momento lì. Esatto. Ovviamente devi sapere accendere il computer. Mi controllate sempre lo spinotto che si è attaccato. No, però è vero quella del vendersi bene perché poi molte persone hanno, magari, tipo, sono molto spente, vanno a fare i colloqui tipo con zero voglia di proporsi. Sì. È ovvio che poi non vengono prese, ma quello, vabbè, è un po' il mondo del mercato. Cioè, bisogna proporsi bene. Questo è capitato nell'azienda in cui lavoro attualmente di aiutare perché lavoro per una start up e quindi siamo in pochi e ogni tanto do una mano a fare anche il recruitment, dare un'occhiata a fare colloqui, dare un'occhiata a prove scritte per il Dipartimento di Customer Support nel caso concreto per le persone che, diciamo, vogliono entrare nel mercato, per il mercato italiano. È chiaro, ti arrivano delle prove che noi facciamo anche un po' per capire la gente come scrive, no? Come presenta un testo banale che uno ci pensa, no, vabbè, è il mio momento, è la prova scritta, devo fare una cosa piccolina, non devo scrivere chissà che, però ci metto un attimo di attenzione. Eppure vedo che anche in questi casi c'è chi magari tutta questa attenzione non la mette, quindi magari copia e incolla dal sito delle risposte e poi non formatta in modo uguale tutto il testo. Cioè, sono delle piccole cose che secondo me nel momento in cui poi tu devi affidarti, no, a qualcuno, possono diventare determinanti. Bisogna essere un po', anche se non è il lavoro della tua vita, secondo me è importante, vedendo la cosa con maggiore prospettiva, capire che in questo momento magari quel lavoro può essere importante a fare un passo più avanti e metterci un po' di amore in quello che si fa. Esatto, bravo. Perché tutto ha sempre, cioè poi ha un significato più grande, no, nell'inizio. Sì, sì. E io ho un consiglio che do, che mi è venuto in mente adesso mentre parlavi, era quello di, nel curriculum, inserire un numero telefonico spagnolo, ad esempio, perché mi sono reso conto che tutti quelli che non hanno un numero spagnolo, per qualche ragione non vengono chiamati, quando inseriscono il numero spagnolo vengono poi chiamati. Questa è una piccola roba che io ho notato. Ovvio che è fondamentale specificare in quel caso di avere il NIE, perché quello è importante. Però nel curriculum, se vuoi lavorare qua, secondo me devi avere un po' anche il numero spagnolo. Non so se tu… Dipende dall'azienda. Dipende dall'azienda, ok. Dipende dall'azienda. Tipo poi chiamate anche numeri stranieri, cioè tipo non… Sì. Ecco questa è una cosa. Ovviamente è importante che se chiediamo, se si parla di una disponibilità, ci sappiano dire quando, no, a partire da quando la persona è disponibile. Però soprattutto, non so, Barcellona c'è un ambiente abbastanza internazionale, c'è gente che viene e va continuamente. E' più accettato anche il concetto di lavoro in remoto, un lavoro a distanza. Ah, bello. Per cui, nel mio caso mi è capitato di fare colloqui a distanza, parte della selezione appunto a distanza, un'altra parte diciamo di persona. Scartare un curriculum buono solo esclusivamente per il numero di telefono, no. Ok. Almeno io non lo farei e non credo che neanche i miei colleghi nella mia azienda. Ok. No, perché ho un'amica che ha un sacco di lingue, veramente ha un buon curriculum, però non l'hanno mai chiamata. Adesso che ha inserito il numero spagnolo, ha cominciato per la prima volta a ricevere chiamate. Caso? Non lo sappiamo. Però mi è venuto in mente che potrebbe essere un handicap di non mettere, poi farsi una scheda oggi come oggi costa niente. Quindi voi fatevela se dovete trasferirvi a Barcellona. Forse a seconda dell'azienda se loro hanno bisogno subito di qualcuno. Esatto, esatto. O vogliono risparmiare sulle bollette del telefono. Esatto. Sì, dovrebbe essere abbastanza... E tu, non so, che consiglio daresti a chi vuole trasferirsi a Barcellona? Un consiglio? Sì. Ma in realtà è un consiglio che darei a chiunque, anche se non si vuole trasferirsi a Barcellona. Nel senso, per chi si trasferisce a Barcellona, per chi si trasferisce in generale, per chi già è nel mindset di mettersi in gioco... Diciamo Barcellona. Io... Ok. Perché credo che capita a tutti gli emigrati, no? Si mettono già in una modalità diversa. Più aperta, più pronta. Sono già un passo avanti per muoversi. Una volta che ci sono, si mettono un po' il pepe. E fanno più cose, no? Sempre stimolati. La chiave secondo me è sempre la stessa. Applicarsi nelle cose in cui ci si mette. e non esigere subito nella vita e nelle proprie scelte, nel loro percorso professionale, di raggiungere già un livello top che è come quello, diciamo, che vi si prospetta nel momento in cui vi siete appena laureati o, non so, di cose con cui la società a volte ci bombarda, no? Facendo credere che subito dobbiamo arrivare, no? A essere grandi manager. Non si arriva da nessuna parte senza avere fatto... Senza avere fatto... A prescindere da cosa, no? Però... Iniziandosi a muovere. Iniziando a mettersi in gioco. Iniziando a sforzarsi nel momento in cui il gioco si fa duro. Ehm... Perché è proprio quel momento in cui devi imparare qualcosa di nuovo. Che sia una nuova lingua. Che sia delle competenze nuove. E stai lì e dici... Cavolo, questo è difficile. Questo è complicato. Questo mi richiede più di cinque minuti di lettura, no? E' in quel momento lì in cui si chiede uno sforzo in più che probabilmente risiede la chiave della crescita personale. Che diventa poi una crescita professionale. Ehm... Io ho avuto un percorso molto, molto variegato. Perché ho studiato traduzione, interpretariato. Volevo fare altro nella mia vita. E poi in realtà... Ehm... Ho fatto un po' di tutto. Ehm... E' quasi come se... Prima... Dieci anni fa... Non potevo... Non avevo mai potuto immaginare di... Di fare quello che faccio oggi. Però ci sono arrivata... A piccoli passi. Anche facendo quello che mi faceva schifo. Anche facendo cose che... Non mi facevano contenta. Svegliandomi alle 5 il mattino. Ehm... Facendo dei turni improponibili. Ehm... Frustandomi. O... Facendo un sforzo doppio per lavorare e studiare. Ehm... Ehm... E poi le cose iniziano ad avere senso. E invece nel concreto, per chi vuole venire a Barcellona... Che consiglio daresti? Tipo non so... Venite qua in vacanza una settimana. Cercatevi prima la casa. Piuttosto che... Fatevi prima i documenti. Piuttosto che... Non lo so. Che consiglio dai? Te che ci vivi da un po' di tempo. Logistici. Eh... Sì. Dai un consiglio proprio concreto a chi vuole trasferirsi qua. Allora, su Wailing ci sono dei voli molto... Molto economici. E questo è buono. Come piattaforme... Come piattaforme per trovare casa c'è... O Idealista, attenti alle truffe. Oppure Buddy, dove praticamente è una specie di... Sì. E' un'app dove praticamente gli inquilini possono fare una selezione e scegliere sulla base di caratteristiche, di profilo, ok? Diciamo il coinquilino che è più si adatta a loro, no? Ok. Quindi c'è... C'è Buddy, c'è Idealista... Cercare casa e se avete... Se conoscete qualcuno qui... E potete per qualche giorno, anche solo una settimana, diciamo, approfittare, concentrare tutte le visite negli appartamenti in una stessa settimana e farvi un bel giretto. Magari approfittatene. Altrimenti, ecco, ci sono degli ostelli molto economici, tipo 15-20 euro a notte. C'è chiaro che bisogna un minimo di soldini da parte, all'inizio bisogna avere, anche perché magari quando entri nell'appartamento ti chiedono una mensilità corretta, diciamo, morta e un'altra, sì, poi nel migliore dei casi. Infatti spesso mi chiedono concretamente, Gianni, ma quanti soldi devo avere da parte? Allora, io ho detto, secondo me, si può partire se sei determinato, bastano anche semplicemente 1.000 euro. Sì. Se sei determinato, poi dipende, se uno cazzeggio a due mesi è ovvio... Se sei determinato è organizzato. Esatto. Per cui ti concentri le visite, se conosci qualcuno ovviamente questo è un grande passo avanti, in modo tale da avere almeno dove sbattere la testa, cioè qualsiasi cosa. Hai qualcuno che già ti offre il divano. Dipende molto dai casi. 1.000 euro con 1.000 euro si può fare. E poi questo, magari già... Ecco, se già c'è un lavoro è anche meglio. Se già c'è un lavoro è anche meglio. E ci sono tantissime aziende di assistenza ai clienti. Ovviamente sono aziende grandi che, diciamo, prendono progetti di marche grosse, per cui hanno bisogno di team di 20, 30 o anche più agenti in tutte le lingue. E ce n'è varie, SellbyTel, Sellit e tante tante altre. E queste ti assumono? Ti assumono? Fanno assunzioni? Sì, 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 sì. Mettono continuamente cose. Poi un'altra cosa, a Barcellona LinkedIn funziona. Quindi consiglio vivamente di crearvi un profilo. Bene, ci sono un sacco di tutorial e anche LinkedIn stessa da suggerimenti e ci sono articoli che suggeriscono come ottimizzare le ricerche. Seguite le aziende che vi interessano, i settori che vi interessano. Seguite le persone che professionalmente stimate o che in qualche modo rispettate a livello lavorativo, no? Che hanno un ruolo a cui ambite in un futuro in 5-10 anni, per esempio, no? Perché vuol dire che in qualche modo vi apriranno alla loro rete di contatti. Quindi LinkedIn lo consiglio, scrivere un curriculum in inglese e dimenticatevi del formato europeo perché veramente fa schifo. Quale ci sarebbe? C'è il formato di curriculum europeo. Eh no, però in alternativa quale? Andate su Canva, versione gratuita, cercate il template di curriculum e scaricate quello che più vi aggrada oppure fatene uno bianco, voi, con header e footer. Nell'header mettete nome e cognome, email, LinkedIn profile, poi il numero di telefono o Skype. Dall'esperienza più recente a quella più nuova. Una pagina di CV va bene. Fate due o tre versioni di CV se volete applicare per ruoli diversi. Per trovare, devono essere tutti adattati. Avete lavorato come camerieri? Adattatelo in modo tale da evidenziare tutte le skills che possiate avere utilizzato, tutte le competenze e le caratteristiche che abbiate messo in gioco in quel ruolo in particolare. Non vergognatevi delle vostre esperienze perché tutto è utilissimo. E anche nell'ambito dell'assistenza ai clienti, se voi avete lavorato come camerieri, è ottimo. E tutto serve. Conoscete lingue straniere? Sì? No? Quello è un valore aggiunto pazzesco. Le lingue qua a Barcellona sono uno di quei valori incredibili che vengono molto sfruttate. Nel senso, se sapete più lingue e poi magari non avete grandi esperienze, può favorire comunque un'assunzione. E dire cavolo, però questo mi può parlare in più di lingue o tradurre delle cose. Quindi, se sapete più lingue, meglio. Un'altra domanda. Secondo te è un handicap o non è poi così fondamentale il sapere perfettamente lo spagnolo all'inizio? Allora, è chiaro che un po' può essere limitante, però non è assolutamente così. Ci dipende molto anche da quello che si vuole fare, dal lavoro che si cerca e da quanto a contatto con le persone devi stare nel tuo quotidiano. Esatto. Conosco persone che dopo sei anni, sette anni ancora non parlano spagnolo, parlano solo inglese. E stavi parlando di qualcuno in particolare? E di te l'ho scoperto oggi, non lo sapevo. E questo, quindi dipende molto, non è assolutamente limitante, sicuramente lo è, però nei termini che decidi tu. Ok, quindi abbiamo quasi concluso, nel senso ci sono altri consigli o cose che vogliamo dire su Barcellona? A parte dei motivi per cui venire a Barcellona, non ve lo spiego neanche. Cioè, c'è il mare, cosa volete di più? Cosa c'è di più bello che fare una pausa lavorativa al mare? Cioè, esci dal lavoro, ti metti in spiaggia, ti bagni i piedi, secondo me già quello ti rigenera. Assolutamente, ti dà un equilibrio, questa città ti dà un equilibrio che è veramente unico. Puoi veramente fare quello che desideri, se vuoi e se ne hai la grinta e la voglia, lo puoi fare. Lo puoi fare. Perfetto. Una città piena di possibilità per chi è pronto a prendersene. Bella, mi piace. Allora, con questo direi che siamo a posto, noi vi salutiamo dalla spiaggia di Barcellona e speriamo che questo video sia utile per molti di voi. Ciao! Ciao!